C'era una volta il piccolo elfo Leonardo, che tutti ormai chiamavano Leo. Sua mamma amava l'arte e poco prima che nascesse Leo andò in un museo a vedere una mostra dedicata al grande Leonardo da Vinci. Così decise di dare questo nome al suo bimbo che sarebbe nato poco dopo. La mamma di Leo desiderava avere un figlio intelligente e pieno di inventiva come Leonardo da Vinci. Era un elfo piccino, era alto appena 50 centimetri, aveva i capelli neri e un cappellino rosso a punta con un campanellino in cima che suonava ogni volta che Leo saltellava. Aveva sempre il nasino rosso per il freddo, le orecchie a punta e due occhi grandi pieni di curiosità. Era testardo e determinato. Quando pensava a una cosa la doveva subito realizzare e mettersi al lavoro. Frequentava la scuola per ilfi di Babbo Natale in cui poteva imparare i segreti del mestiere. Leo ogni giorno andava a scuola, era uno studente attento, curioso e soprattutto creativo. Amava ideare nuovi giocattoli e marchi ingegni per poter rallegrare i bimbi del mondo. Il grande sogno di Leo era poter aiutare personalmente Babbo Natale come gli elfi più grandi. Babbo Natale gradiva molto l'inventiva di Leo, ma nonostante ciò gli diceva sempre. Ho ho ho, Leo sei troppo piccolo per poter venire con noi a portare i regali ai bimbi. Hai ancora tante cose da imparare prima di volare con la slitta per i cieli con me. Nonostante questo, Leo non si perdeva d'animo e continuava a creare, inventare, montare e smontare, dando vita a dei giocattoli originali, sicuro che prima o poi avrebbe convinto Babbo Natale. Ogni giorno si sedeva alla sua scrivania dopo essere tornato da scuola e pensava, pensava, pensava finché non riusciva a tirar fuori qualcosa di utile. Spesso lavorava anche di notte perché diceva che le idee i migliori gli saltavano in mente proprio in quel momento. Leo era impaziente di conoscere il mondo, nei mesi precedenti lavorò giorno e notte per creare il suo mezzo di trasporto personale per poter volare e consegnare regali con Babbo Natale. Ideò così una macchina per volare, ma ancora non aveva avuto l'occasione per provarla. Già si immaginava di sfricciare sopra di essa intorno alle renne di Babbo Natale. Era molto entusiasta e non vedeva l'ora di far vedere questa sua creazione a Babbo Natale, che voleva tanto rendere orgoglioso. Leo voleva molto bene a Babbo Natale e faceva di tutto per poter diventare buono e gentile come lui quando sarebbe cresciuto. Leo sognava di volare con le renne e per questo creò questa macchina volante. Finalmente il grande giorno delle consegne arrivò. Leo si svegliò tutto emozionato e corse alla casa di Babbo Natale. Attraversò il gelo e la neve tutto tremolante. Guardò attraverso la finestra, ma... Oh no! In casa non c'è nessuno! Babbo Natale deve essere partito all'alba. Ma cosa ha lasciato lì sul tavolo? No, quella è la mappa delle case dei bimbi buoni! Deve averla dimenticata prima della partenza. Devo assolutamente portargliela. Ma come faccio a prenderla? La porta è chiusa! Pensò e ripensò a come poter entrare in casa di Babbo Natale. Non voleva entrare dalla finestra rischiando di romperla e neanche dalla porta senza una chiave. All'improvviso si arrese all'unica idea possibile da realizzare. Girò intorno alla casa cercando un modo per entrare finché... Vediamo... No, non mi resta altra scelta che passare dal camino. Si arrampicò sul tetto e si calò giù dal camino. Era piccino, quindi riuscì facilmente a farsi largo. Ancora sporco di foligine, prese la mappa e uscì di casa in fretta. L'unico modo per raggiungere Babbo Natale in tempo sarebbe stato quello di utilizzare una delle sue creazioni. Leo corse a prendere la sua macchina volante che lo avrebbe portato da Babbo Natale in tempo. Preoccupato di non sapere se funzionasse, decise di provarla. Bene, è arrivato il momento di provare la mia macchina volante. Vediamo un po' se riesce a volare. Adesso proverò a fare il primo salto. Uno, due, tre, vola! Finalmente Leo poteva raggiungere velocemente la slitta di Babbo Natale. Viaggiò in lungo e in largo alla ricerca di Babbo Natale, passando per grandi città e piccoli villaggi. Volò sui lungarni di Pisa e passò anche dal museo della grafica. Lo trovò infine proprio sul tetto del museo, con un'espressione confusa sul volto. Si era perso e senza la sua preziosa mappa non riusciva proprio a ritrovare la strada. Così Leo andò verso il tetto del museo e atterrò con la sua macchina volante. Babbo Natale, finalmente ti ho trovato! Ti ho cercato ovunque! Leo, ma cosa ci fai qui? Povero me! Non sai cosa ho combinato. Ho dimenticato la mappa delle case dei bimbi buoni. E ora è troppo tardi per poter tornare indietro e consegnare regali in tempo. Come farò? Ho provato a ritrovare la strada da solo, ma proprio non ci riesco. Sono così stanco! Non ti preoccupare, Babbo Natale, te l'ho portata io! Ma davvero? Oh, Leo, meno male ci sei tu! Ma, visto che sei già qui, ti andrebbe di aiutarmi nelle consegne? Certo! Così Babbo Natale e Leo partirono insieme. Leo fu un ottimo compagno di viaggio, soprattutto in alcune situazioni difficili. Per esempio, quando arrivarono alla casa di Carlotta. Lei era stata una bimba molto brava per tutto l'anno, non aveva fatto tanti capricci e aveva mangiato tutte le verdure. Aveva lunghissimi capelli ed era avvolta nel suo pigiamino. Aveva tutta l'impazienza e la felicità tipica dei bimbi durante la notte di Natale. Arrivati lì e sbirciando dalla finestra, si resero conto che Carlotta era sveglia e aspettava Babbo Natale con i biscotti e il latte che gli avrebbe regalato. Carlotta era curiosa di poter vedere con i suoi occhi Babbo Natale e di poterlo abbracciare. Ma Babbo non può rivelare la sua identità a Carlotta. Panico! E ora come si fa? Babbo Natale era di nuovo agitato. Ma Leo aveva una soluzione per tutto, sapeva destreggiarsi in qualsiasi imprevisto e aveva portato con sé una sua invenzione. Babbo Natale, ci penso io, non preoccuparti. Con questo giocattolo posso distrarre Carlotta e nel frattempo tu scendi dal camino e metti i regali sotto l'albero. Oh, ottima idea! Secondo te, Leo, potrebbe funzionare? Certo, Babbo! Ad ogni mia creazione dedico giornate di lavoro intenso. L'ho già provato, vedrai, funzionerà e tutto andrà bene. Va bene, Leo, mi fido di te. Andiamo! Leo entrò di soppiatto a casa di Carlotta e fece rotolare l'oggetto ai suoi piedi. Ehi, ma questo cos'è? È un nuovo giocattolo? Come funziona? Vediamo! Mentre Carlotta era impegnata a scoprire quella strana creazione, Babbo Natale riuscì a sistemare tutti i suoi regali sotto l'albero. Una volta finito il lavoro, Leo e Babbo Natale corsero via. Una volta lontani dalla casa della bimba, Babbo Natale si rivolse a Leo. Leo, devo dire che mi dispiace. Non avrei mai dovuto sottovalutare la tua creatività. Sono felice che tu sia venuto in questo viaggio con me. Hai dimostrato non solo di essere un ottimo inventore, ma anche di essere un bravo alleato. Grazie, Leo. Grazie, Babbo Natale. Lavoro duramente alle mie creazioni e sono felice che tu le abbia apprezzate. Dai, forza! Basta perdere tempo. Vogliamo via! Tanti altri bimbi ci aspettano. Non possiamo far ritardo. Via verso una nuova missione!